buongiorno ragazzi io non so se sono stato io o qualcun altro oppure tutti insieme che facciamo i video ma non so se vede bene che hanno tagliato l'erba lungo la strada che le macchine si vedono quando arrivano ecco questa è la zona quella con le canne stavano cadendo questo certo l'hanno lasciato qua il cumuletto dei detriti basta andiamo a vedere laggiù è andata un po come aperto qua adesso come bello libero ma quasi un posto normale adesso